Anche oggi salendo abbiamo incontrato vari gruppi di persone, una buona metà dei quali, parlo di almeno 4 gruppi di più persone, non hanno indossato la mascherina quando ci hanno incrociato. So che sono fastidioso, come è fastidioso anche indossare questa mascherina, ma io continuerò a rompere le scatole e vi invito sempre a metterla. Ecco, lo vogliamo sconfiggere questo cavolo di virus o ce lo teniamo? Perché se collaboriamo tutti riusciamo, altrimenti se pensiamo che tutto sia finito, ciao Italia, perché qua le cose stanno andando veramente a rotoli, quindi anche qui in montagna quando incrociamo delle persone mettiamolo, ecco, è importante questa cosa, cerchiamo di farlo sempre, anche qua in montagna, anche se non c'è nessuno che ci vede, ci fa la multa, mettiamolo per senso civico, ecco, bene. Grazie.